Diamo per scontato come età. Prevenzione, sorveglianza e terapie sono stati i temi trattati al convegno intitolato Sterilità di coppia organizzato al Centro Pastorale Diocesano dal Movimento per la Vita di Fano. L'incontro è stato pensato per i medici di medicina generale e i pediatri perché i dati nazionali mostrano un trend costantemente negativo della fertilità e della natalità. Durante il convegno gli esperti del settore hanno spiegato come il fenomeno dipenda da diversi fattori ma stili di vita e ritardi diagnostici sono tra i principali aggravanti del lungo periodo che trascorre tra l'acquisizione della maturità sessuale e il presentarsi della volontà procreativa. La fecondazione artificiale poi proposta come soluzione alla sterilità di coppia non risolverebbe lo stato di fertilità. Oltre ad avere basse percentuali di successo presenta numerose implicazioni di carattere sia scientifico che etico. Dentro questo cammino che le coppie si trovano a fare per poter ovviare a questa problematica spesso la vita non viene difesa, valorizzata perché proprio il percorso stesso non tiene conto del più debole di questo aspetto, vale a dire il bambino che viene fabbricato in vitro. Non solo viene fabbricato in vitro ma poi viene soggetto anche a manipolazione, a congelamento. Addirittura vengono buttati questi embrioncini e quindi il movimento per la vita deve farsi carico. Ho già presentato le firme per i referendum abrogativi. Dottor Marchionni lei ha fatto delle riflessioni bioetiche. Come la fecondazione artificiale risolve i problemi di infertilità? Ma certamente no, le coppie che si avvicinano a questa tecnologia riproduttiva sono coppie che hanno certamente in alcuni casi ottenuto lo scopo di ottenere appunto un bambino, una gravidanza ma sterili erano prima, sterili restano. Quindi il tema della risoluzione vera dell'infertilità passa attraverso una corretta diagnosi e eventualmente una corretta terapia. Non è forse possibile ripensare un modello di genitorialità che non passi attraverso l'artificialità della generazione? D'altra parte i dati del Ministero, l'ultima relazione è del 29 giugno 2017, reca i dati del 2015-2016, dice che a fronte di circa 112.000 embrioni prodotti nei circa 350 centri italiani, soltanto 12.000 sono stati i bambini arrivati in braccio, un'efficacia dell'11%. Ora, è chiaro che per quelle 12.000 famiglie che hanno avuto un bambino è stato un successo, ma gli altri 100.000 embrioni che mancano all'appello credo che interpellino le nostre coscienze. Vi ringrazio.